Cosa cazzo abbiamo appena visto? Cosa? Cosa? Zverev che disintegra Nadal su tutti i fronti finisce 2-0, 6-4 per Zverev il primo set, 7-5 il secondo set che poteva finire in mille altri modi il secondo set, sempre in vantaggio di Zverev Nadal è stato bravo a recuperare qualche game ma alla fine l'ha perso, ha perso il secondo set raga ora io c'ho paura, sto Zverev fa veramente veramente paura e domani contro Medvedev non so come potrà finire perché fa davvero paura allora iniziamo già a parlare solo degli ace, lui ne ha fatti 13 ma con molta nonchalance con le prime e le seconde sempre in campo a parte un doppio fallo in due set ma non le prime e le seconde che tirava Nadal perché la maggior parte delle volte Nadal quando tirava le prime e le seconde Zverev rispondeva sempre, invece Nadal molte volte non riusciva a rispondere quindi punto diretto mi sento pure agitato a farve sto post partita perché è stata una partita incredibile allora, primo set Zverev lascia 0 palle break a Nadal, 0 finiva ogni suo turno di servizio 40-0, 40-15 e massimo 40-30 sarà successo una volta sola invece Nadal ha fatto molto più schifo quando stava al servizio e infatti poi è arrivata anche la palla break e la palla break ragazzi non è arrivata così a caso è arrivata lasciando Nadal a 0 e Zverev ha breccato cioè io mi complimento con Zverev per questa prestazione ottima ma il primo set ragazzi è ovviamente una minima parte perché è il secondo set quello che fa tutto il terzo game come è successo nel primo set alla fine si si fa breccare Nadal da Zverev comunque non come nel primo set lasciato a 0 sono andati poi ai vantaggi e tutto quanto vabbè ha vinto Zverev alla prima occasione utile che ha trovato ok da lì in poi comunque Nadal ha rischiato un'altra volta di essere ribreccato al turno di servizio successivo però alla fine là se l'è cavata successivamente c'era il turno di servizio di Zverev e lì è successo il panico perché ha regalato quante palle break ha regalato? due palle break ha regalato due palle break a Nadal Zverev che alla fine tutto a posto quel servizio le ha risolte e va bene arriviamo a questo game il game decisivo secondo me dove Zverev ha avuto veramente veramente le peggio palle break perché bat servizio Nadal 0.15 0.30 0.40 e inizia prima palla break vabbè 15.40 ci sta 30.40 la seconda 40 pari e va bene 3 palle break 3 poi ci vuoi mettere che sei andato anche in vantaggio? quindi 4 palle break raga quando c'è dopo 4 palle break contro Nadal devi buttarla dentro cioè tu stavi rischiando di andare veramente 2.5 contro Nadal al secondo set vabbè vince Nadal questo game e io ho detto ok ora crolla Zverev Nadal brecca perché dopo che ha regalato 4 palle break al tedesco Nadal deve vincere il prossimo game e infatti è stato così gli ha breccato e quindi alla fine stavano 4 pari 4 pari secondo set e io ho detto ok arriva il terzo sicuro arriva il terzo non credo che e ora si fa ri-break a Nadal perché alla fine e poi dopo il turno di servizio dopo il break l'ha chiuso lasciando Zverev a 0 stessa cosa però poi è successa quando ha dovuto battere Zverev che ha lasciato Nadal anche là a 0 quindi stavano 5 pari turno di battuta di Nadal e niente raga e niente turno di battuta di Nadal si fa inculare così quindi è stato ri-breakato sul 5 pari per andare a 6-5 5-6 e non è la partita di Medvedev e Raonic che ora c'è un'altra volta il break di Nadal no perché Zverev l'ha chiusa l'ha chiusa a 40-15 e ha regalato anche quest'ultimo punto su risposta fortunoso sulla riga dell'ultimo game perché se no veramente finiva un bel a 0 lasciava Nadal a 0 ma io ho veramente paura perché le statistiche fanno paurissime di Zverev e domani domani è lui quello papabile per la vittoria ed è Medvedev quello che deve vincere ora io non vorrei dire niente magari ecco comunque Stegica sul sul cemento non si parla ancora di campioni ormai finiti parliamo di Djokovic che va a perdere contro Sonico parliamo di Nadal che va a perdere contro comunque Zverev quindi la nuova generazione che sovrasta la vecchia il cambio generazionale non parliamo di queste cose perché su Terraro sta Natale ancora il primo al mondo come Djokovic quando gioca veramente quindi però se queste sono le premesse dei nuovi campioni del tennis fanno veramente paura tu l'hai commentato iscrivetevi e domani finalissima e in più c'è anche Lazio e Juventus quindi non perdetevi i due video di domani bello a tutti grazie